ciao a tutti e bentornati ad una nuova presentazione sul mio canale oggi vi voglio far vedere la monte di apollo è composta da questi otto container e il camion qua della scarier è un picchietto it r con il gancio per caricare i diversi container che abbiamo a disposizione tra cui ci sono i due container che vediamo qui per caricare il grano c'è anche questo qua più piccolino abbiamo a disposizione quello per caricare i liquidi che è questo qua abbiamo disposizione anche quello per caricare il digestato e il liquame e abbiamo la possibilità sempre con questo camion qua di utilizzare questo cassone qua per spargere il nostro concime suo sui nostri campi un'altra possibilità che abbiamo ancora è utilizzare sempre questo camion qua con questo attrezzo qua con questo cassettone che possiamo caricare sul nostro camion ed è indovinate in autoload per i tronchi della legna ma andiamo a vedere adesso piano piano come effettivamente è composto il nostro camion carichiamo di nuovo questo sul camion andiamo a vedere le funzioni del nostro camion e dopo vi faccio vedere all'interno del negozio come è configurabile che possiamo variare ok allora spegniamo intanto il camion andiamo a vedere le luci questa è la configurazione diciamo base come potete vedere a l'illuminazione cui tutta frontale e si spengono ci sono anche le lucine piccole con i lampeggianti sopra le frecce che i lampeggianti vedete ci sono anche i lampeggianti piccoli qua davanti spegniamo questi accendiamo le luci luce luce tutte le luce tutte le luci diamo pure le frecce destra e sinistra funzionano tutti le quattro frecce funzionano funziona abbastanza tutto ed è abbastanza addirittura abbastanza è molto bello è fatto molto bene il colore mi sembra sì quello opaco giusto ma possiamo andare a configurare i diversi colori all'interno del nostro negozio ok andiamo dentro il negozio vi faccio vedere come come possiamo modificare il nostro camion e poi andiamo a vedere effettivamente di cosa si tratta come composto questo pacchetto qua con i diversi cassoni che possiamo utilizzare o tra questa scelta qua allora andiamo dentro il negozio il camion lo troviamo qui sotto ai camion eccolo qui per la modica cifra di 165 mila euro per come l'ho preso io in di serie andiamo a vedere cosa possiamo andare a cambiare come vedete qui ne abbiamo i abbiamo una grande scelta di quello che possiamo configurare purtroppo l'unica cosa che è la lingua non cambia perché io l'ho scaricato ed è in tedesco non possiamo non me l'ha cambiato anche se il gioco è messo in italiano ok allora andiamo a vedere la prima cosa che possiamo vedere qua sopra più scarico tanto abbastanza si capisce non è che è difficile anche se in tedesco non è un problema allora lo scarico sotto altrimenti vediamo qui abbiamo lo scarico sopra ok abbastanza mi piace di più quello sopra così può americanizzato non so poi abbiamo la possibilità di metterci questo piccola protezione qua davanti ok abbiamo anche la possibilità di metterci il nostro coso qua davanti per il bull rod che viene messo anche qua sopra e c'è in tre versioni questa è la terza via vedere la seconda con la rete nella prima che è questo può un pelo più piccolino ma abbastanza carino anche questo no sopra non lo cambia sbagliato io scusate lo cambio solo sotto sopra rimane uguale andiamo a vedere che possiamo mettere anche il il logo dell'azienda in questo caso abbiamo questo qua con i pistoni che ti fa vedere che il nostro camion è un v8 della scania poi abbiamo questo qua che è un'azienda di trasporti un'altra azienda di trasporti questo è un altro ancora altrimenti senza ok mettiamo che vogliamo quello della scania lasciamo questo bellino così poi andiamo a vedere che abbiamo la possibilità di mettere questo spoilerino qua sotto non lo vogliamo lo andiamo a tirar via mettiamo lo lasciamo per adesso e mettiamo anche la prima versione del nostro bull rod poi andiamo a vedere possiamo modificare anche i parafanghi delle nostre gomme le nostre gomme posteriore o in plastica o questo qua in lamiera ok mi piace forse più in plastica la possibilità di variare il motore da 500 cavalli o massimo di no qua cambiamo il cambio o manuale o col power shift passa dal manuale al automatico pensavo che c'era scritto configurazione motore che cambiasse il motore invece il motore rimane uguale ma andiamo a vedere la diverse combinazioni di colore che abbiamo a disposizione ok il colore principale abbiamo questo rosso di serie vogliamo un blu ok qui andiamo a cambiare la mascherina frontale mettiamo questo grigio chiaro il colore dei cerchi che possiamo variare anche qui mettiamolo un verde tanto per dare un un'occhiata a quello che effettivamente possiamo le combinazioni che possiamo scegliere sono varie magari lasciamo via togliamo via questo questo verde qua che è brutto da vedere mettiamo un c'è un grigio un bel grigio questo non è brutto lo stesso grigio lo mettiamo anche nel nella parte davanti nella mascherina abbiamo una combinazione tra un blu e il grigio che è abbastanza bella da vedere ok possiamo variare anche la targa effettivamente gli optional non ci costano tantissimo ok l'unica cosa che probabilmente ci costerà non neanche il cambio va bene l'unica cosa che ci costa un po sono effettivamente poi gli scarichi è un po il i bull rod qua davanti è un po il colore che alla fine non non ci ci non ci rovina tanto ok andiamo a vedere i cassoni che possiamo caricare su questi camion qua i primi li troviamo qui e sono questi qua marchiati a pollo così vediamo ci vediamo anche subito quali sono ok allora per prima cosa vediamo il rimorchi che possiamo comprare anche questo è configurabile non tantissimo ma almeno possiamo andare a variare i colori ok tanto per vedere che tipo cosa andiamo a cambiare mettiamo un po di colori a caso possiamo variare la parte sopra i parafanghi poi anche il colore delle ruote ok andiamo a vedere allora i cassoni che possiamo caricare e c'è questo container qua che carica un po tutto quello che abbiamo in fattoria sì che quello diciamo un po più piccolino con 18 mila andiamo a vedere se qua possiamo cambiare qualcosa si possiamo cambiare il colore ma anche qui tanti colori a disposizione poi passiamo a quelli un po più grossi che è questo qua da quasi 39 mila kg e questo con la stessa misura ok l'unica cosa che qui abbiamo la possibilità di variare questi due colori qua vediamo l'altro cosa ci dà la possibilità di fare ma no ragazzi la differenza qui è che carica solo ed esclusivamente questi sette prodotti che abbiamo qua che passa dall'erba canno da zucchero cippato paglia la razione mista il fieno e la pula invece questo è il classico cassone che carica tutto ok per la stessa quantità costa però 10 mila andiamo a vedere cosa è possibile configurare qui anche qui solo il colore vediamo quanti colori a disposizione sì diciamo che ci sono tutti colori a disposizione che abbiamo anche per il camion ok andiamo a vedere ci sono anche altri due cassoni che possiamo caricare uno è quello per l'insilato è la il liquame ed è questo qua e da 15 mila litri anche qui possiamo andare a variare il colore e ci sono stessi colori a disposizione come abbiamo visto per i precedenti andiamo a vedere invece il cassone per l'acqua che troviamo in animali che è questo qua con una capacità di 16 mila e carica il latte l'acqua il questo non mi viene che cos'è comunque il liquame carica il digestato la benzina e anche l'erbicida probabilmente questo è il fertilizzante liquido ci sono arrivato adesso allora qui abbiamo a disposizione questo bel colore qui acciaio possiamo andare a variare tramite questi colori con questi colori qui vendiamo questo rosso qua magari uguale a quello che avevamo poco fa il camion o mettiamo questo verde tanto per andare a modificare un po di colori un arancio per andare a cambiare un po il design del nostro cassone ma se vogliamo tornare all'originale che forse era quello più bellino effettivamente così o diamogli magari un bianco vediamo sì insomma non è il massimo mi piace proprio no 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 col bianco non va bene col grigio così sta bene secondo me va bene così anche qua abbiamo una capacità di 16 mila litri per un prezzo totale di 13 mila con queste piccole modifiche abbiamo fatto andiamo a vedere invece quello che è uno dei pezzi che a me piace di più che è quello per per la legna invece di avere uno di questi anche in auto lot che sono disponibili e in certi punti magari facciamo un po fatica a girare come potete vedere con questi possiamo prendere uno di questi qua che è più corto visto che abbiamo il camion più corto e possiamo scegliere possiamo scegliere abbiamo una soluzione più corta che ci dà la possibilità di avere più manovrabilità anche qui possiamo andare a variare un po i colori prendiamone uno a caso che però in questo caso non ci aumenta il prezzo ok non ci dà la non ci fa vedere che tipo di che lunghezza di tronchi possiamo andare a caricare ma nel momento in cui probabilmente andiamo a a ricarlo a montarlo sul camion ci fa vedere effettivamente probabilmente ci farà vedere cosa possiamo caricare che lunghezza di tronchi possiamo andare a caricare torniamo al nostro camion che è quello che è un po più complesso di tutti attiviamo l'aiutante scusate ma ho disattivato l'abd andiamo a attivarlo di nuovo ok e qui andiamo a vedere effettivamente un po di optional la prima cosa interessante è quella che non abbiamo bisogno di autodrive la cosa più interessante è che dobbiamo scegliere subito all'inizio è le due cose qui come potete vedere ci sono due chiamate che uno è il tipo di trailer il diciamo che è la dove andiamo a caricare il nostro cassone se lo prendiamo dal trailer qua sopra o lo prendiamo da terra ok se lo prendiamo da terra o lo scarichiamo a terra mettiamo ground andiamo a scaricarlo ok come potete vedere e lui lo scarica per terra nel momento in cui lo vogliamo andare a caricare sul nostro sul nostro rimorchio lo mettiamo di nuovo sul nostro camion andiamo a variare questa funzione qua con la V e lo vogliamo mettere sul trailer come potete vedere ci mettiamo qua a marcia indietro contro il nostro contro il nostro rimorchio abbastanza in linea ok e scarichiamo sul rimorchio ci mettiamo circa così più dritti ci stiamo meglio è nel momento in cui lui è abbastanza posizionato dritto andiamo a staccare vediamo ok dai ok staccato dovevo selezionarlo perché se avevo visto che avevo selezionato il cambio non riuscivo a scaricarlo ok e poi andiamo a collegare un altro cassone magari uguale a un altro dipende quello che vogliamo adesso io per prova voglio caricare questo qui così vediamo se riusciamo a vedere la lunghezza dei tronchi che possiamo andare a caricare però devo andare a cambiare di nuovo la posizione da dove voglio caricare perché in questo caso voglio caricare da terra ok con la V vado a cambiare di nuovo la posizione dove voglio andare a caricare collego ops troppo indietro collego questo qua me lo tiro sopra vediamo se ci fa scegliere i tipi di tronchi la lunghezza che vogliamo onlot container container no non ce la fa scegliere probabilmente perché io scusate vediamo l'accelo di cintura change e probabilmente perché io non ho attivato in questo game safe game il pacchetto quello per l'autoload ok come potete vedere ancora il cassone sul rimorchio è lento ci mettiamo sul rimorchio schiacciamo la x no scusate andiamo a schiacciare la q e lui ragazzi perché forse non è ancora in posizione ok andiamo a metterci di nuovo qua schiacciamo la x ok dopo che abbiamo schiacciato la x ci viene qui ci viene fuori il la chiamata di la chiamata di fissare il container al rimorchio ci chiacciamo q e il nostro cassone è fissato al rimorchio così non può andare da nessuna parte ok nel momento in cui vogliamo scaricare o tirare via il cassone dal rimorchio la procedura è inversa nel senso che andiamo a selezionare intanto il cassone che dobbiamo scaricare andiamo con la q abbiamo allentato come potete vedere il cassone dal rimorchio schiacciamo x scusate no devo selezionare sempre il rimorchio e poi andiamo a scollegare il rimorchio ok qui bisogna selezionare l'attrezzo giusto in questo caso avevo selezionato l'attrezzo che avevo sopra il rimorchio e mi stava scaricando quello bisogna prenderci la mano con q e x per selezionare i l'attrezzo giusto da caricare e da scaricare nel momento in cui vogliamo andare a scaricare il rimorchio come già vi ho fatto vedere ci mettiamo dietro al nostro carrello qui al nostro rimorchio e tiriamo via il cassone dal nostro rimorchio ci possiamo mettere uno qualsiasi ok vi faccio vedere un'altra funzione di questo pacchetto qua allora selezioniamo di nuovo dove vogliamo scaricare il nostro carrello in questo caso a terra scarichiamo e vi faccio vedere che questo pacchetto qua è dotato anche è fatto in modo che ok stacca perché non lo molli perché devo selezionare quello giusto ok ragazzi l'errore è sempre mio che io mi metto sempre nel posto sbagliato qua ok pulsante giusto abbiamo staccato tutto ok ora vi voglio far vedere la teniamo sempre questo acceso perché abbiamo la possibilità di regolare la lunghezza dei cassoni che possiamo caricare ok qui in basso sulla sinistra potete vedere che abbiamo anche la possibilità di scegliere la grandezza dei cassoni che andiamo a caricare in questo caso per i cassoni che sono all'interno di questo nostro pacchetto selezioniamo la grandezza grande se invece andiamo a utilizzare il pacchetto della fligel che è un pacchetto sempre dove ci sono all'interno dei cassoni sempre per il nostro itr possiamo andare qui a cambiare la con la b ok vedete andiamo a cambiare il la lunghezza del nostro attacco possiamo utilizzare anche i cassoni della del pacchetto di della fligel che sono quelli un pelo più corti magari andiamo a caricare questo qua aspetta vediamo se ce la faccio ok tiriamo fuori il nostro gancio adesso io il pacchetto non l'ho scaricato ma mi metto comunque il link in descrizione anche dell'altro pacchetto se volete utilizzare anche l'altro pacchetto trovate tutti e due ok trovate tutti e due i pacchetti in descrizione vi metto tutti e due i link sia questo che l'altro vedete se avessimo utilizzato il pacchetto piccolino qui sarebbe arrivato qui ma visto che questo è uno di quei cassoni grande è meglio utilizzare la lunghezza normale utilizzare questo per questo vi faccio vedere la differenza di questi cassoni qua rispetto a quello del pacchetto dell'altro pacchetto che vi metto in descrizione bene ragazzi per questa presentazione qua è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale tanto è gratuito noi ci vediamo alla prossima presentazione sempre qui sul mio canale io vi saluto ciao 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 ciao